Cari amici e cari amiche, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi un video un po' diverso, un video che ho pensato di chiamare il meglio di febbraio e poi ci sarà il meglio di marzo, di tutti i mesi. Ho preso spunto da un video di Michela Di Maio, che ringrazio, e al quale ovviamente ho chiesto il permesso di poter non copiare perché sicuramente le cose che io dirò saranno diverse dalle sue, ma dal quale ho preso spunto. Ho parlato appunto con Michela, mi era piaciuto molto il format del suo penultimo video, comunque pochi video fa, dove lei appunto raccontava il meglio del mese appena trascorso e dove faceva poi delle riflessioni sulle scelte che aveva fatto nel mese. E questa idea mi è piaciuta molto perché alcune volte magari mi trovo in difficoltà a farvi vedere i miei video acquisti, mi sembrano dei video un po' nudi e crudi il fatto di mostrarvi quello che ho acquisto e poi magari di non dirvi come l'ho usato o soltanto così parlare di quello che io compro. Potrebbe interessare a molti, ma potrebbe anche non interessare a tanti altri. E allora ho pensato così di racchiudere una volta al mese diciamo quelle che sono le mie cose preferite, soprattutto di make-up, perché ultimamente sto acquistando molto make-up, ma come vi ripeto non mi piace farvi sempre soltanto il video acquisti. Vi racconto un po' come li ho usati, le scoperte che ho fatto. Adesso mi piacerebbe parlarvi di un libro di cucina che è il libro che ho utilizzato di più nel mese appena trascorso e magari di qualche riflessione che ho fatto e di qualche buon proposito per il mese che arriverà. Iniziamo dai preferiti make-up che io ho utilizzato di più nel mese di febbraio, così vi faccio anche conoscere dei prodotti nuovi oppure dei prodotti vecchi che ho utilizzato maggiormente e con i quali mi sono trovata bene. Partiamo dalle palette. Allora, le tre palette principalmente sono state quelle che io ho utilizzato di più in questo mese, quelle che utilizzo tutti i giorni per andare in ufficio. Trucco molto semplice, anche perché vi ripeto io non sono brava, non sono un'esperta, mi piace però provare, mi piace giocare, mi piace così testare anche nuove palette che ho acquistato, mi piace provare nuove sfumature e magari con palette che alcune le ho da più tempo e altre invece sono nuove e quindi così ve le mostro. Allora, la palette più vecchia, forse una delle più vecchie che ho nella mia collezione è questa palette di Kiko, una palette che penso in collezione permanente perché l'ho vista ancora l'ultima volta che sono andata in negozio e ha queste sfumature. Aspettate che copro lo specchietto. Sono un po' agitata perché è una tipologia di video nuova e quindi qui ci sono i risultati delle nostre partite a burraco. Eccola qua. E' questa palette sui toni del viola, del lilla, del rosa che mi piace tantissimo. Ho utilizzato davvero davvero tanto sia negli ultimi mesi ma da sempre. E' una di quelle che pesco dal mio cassettino e utilizzo quasi ad occhi chiusi anche perché alla mattina alle 6 quando mi alzo, ecco, sono diventata azzurra perché è arrivato il sole. Oh che stress! Vabbè, non sto lì a spegnere la luce che cambia e vabbè, questo è. E devo dire che è una palette che uso in tutte, tutte, tutte le sue colorazioni. Forse quello che utilizzo meno è questo che è un glitterato con dei glitter perché a volte poi mi li ritrovo praticamente sotto gli occhi e quindi anche se adesso con dei primer che ho comprato ma che vi mostrerò in un altro video comunque vedete questo è un shimmer un po' glitterato ma molto molto bello comunque e questa la utilizzo quasi nella sua totalità. Mi è piaciuta tanto, è secondo me una palette perfettissima per tutti i giorni che si usa piacevolmente, insomma, io con Kiko mi trovo bene e quindi continuo ad utilizzarle. Altra palettina che, come potete vedere, è abbastanza scavata nonostante non ce l'abbia da tantissimo tempo è questa di Essence. Questa ricordo di averla comprata perché l'aveva mostrata Elisabetta, Elisabetta R in un suo Gate Ready With Me e tra l'altro l'avevo trovata anche scontata su notino e me la sono accaparrata e devo dire che anche questa come tonalità mi rispecchiano molto e la utilizzo spessissimo. Poi io, appunto, le palette le faccio girare magari che ne so, due o tre giorni uso la stessa poi negli altri giorni ne utilizzo un'altra però quelle che io ho maggiormente utilizzato sono queste. Questa la trovate ancora su notino e questa la trovate ancora in collezione permanente da Kiko. Ultima palette che ho scoperto da poco e l'ho scoperto sul canale di Matilde Baldi quando aveva fatto anche lei un Gate Ready With Me se non la conoscete vi consiglio di andare a seguirla perché è una ragazza bravissima che fa dei Gate Ready With Me davvero belli dove spiega bene tutti i passaggi e anche una capra come me sta imparando a truccarsi grazie a lei. E questa è una palette di Wicon io ho comprato questa e anche un'altra che però non ho ancora utilizzato ma questa l'ho utilizzata tantissimo e l'ho comprata proprio nel periodo del Black Friday o comunque nei saldi di dicembre e devo dire che anche questa è stata una scoperta meravigliosa. Le polveri sono burrosissime sono davvero davvero stupende ha questi colori che mi piacciono tantissimo e davvero a volte utilizzo praticamente il primo colore con uno shimmer qualsiasi e qui ci sono dentro anche le mie unghie come potete vedere mi piace davvero tantissimo e questa è stata una piacevolissima scoperta io mi sto approcciando ora al mondo del make up dove conosco dei brand che prima non conoscevo e mi sta piacendo mi sta piacendo tantissimo altre scoperte che ho fatto sono state i cupizzerro di Nabla questo trio faceva parte di un cofanetto regalo che mi sono fatta regalare da Mattia a Natale ma che poi non vi ho mostrato insieme a due palettine di Nabla che non ho ancora utilizzato ma che utilizzerò e questi sono i tre colori questo è il color vediamo se riesco a leggerlo Arrow Pop ed è bellissimo è questo color celeste meraviglioso poi ho preso cioè sempre nello stesso kit c'era il color mocaccino se non ricordo male cappuccino scusate cappuccino ed è questo bellissimo color proprio cappuccino e poi questo grigio fantastico che è il Midnight Grey è bellissimo perché mi sono innamorata e secondo me per il mio occhio sono fantastici perché non colano perché durano tutta la giornata io sto provando sto imparando ad utilizzarli sia sulla palpebra mobile proprio sopra sopra le ciglia dove metto poi il il mascara e pian pianino sto provando a cercare di inventarmi delle sfumature che non siano molto presenti molto forti perché comunque non ho un occhio che permette di fare dei look spaziali ma mi piacciono tantissimo per me sono state delle scoperte meravigliose e vi dirò di più sul sito di Nabla ma anche su tutti i siti che rivendono Nabla fino all'otto marzo c'è lo sconto per la festa della donna e ogni tre cupizarro o qualsiasi altro prodotto di Nabla e anche altri io li ho ricomprati su pinalli in colori diversi c'è lo sconto 3x2 quindi comprate 3 e ne pagate soltanto 2 se volete provarli io che ho una palpebra vintage che ho una palpebra oleosa dove non ci rimane nulla anche perché come vi ho detto più volte mi trucco alla mattina verso le 6 6 e un quarto e quando mi strucco sono la sera se va bene alle 10 e mezza 11 questi resistono tutta tutta la giornata sono meravigliosi scorrevoli morbidi spettacolari per me sono stata la scoperta di febbraio perché ho proprio iniziato ad utilizzarli a febbraio come rossetti o come lipstick quelli che ho utilizzato di più sono questo che io adoro del coccolove questa colorazione che è quella che indosso anche ora ed è la colorazione ve lo dico subito MLBB li trovo bellissimi sono morbidi sono scorrevoli lasciano le labbra idratate per tutta la giornata io lo metto poi me lo metto in borsetta e me lo ripasso eventualmente in ufficio se ne ho bisogno mi piacciono davvero davvero tantissimo e questo è quello che ho utilizzato di più e l'altro rossetto questo ovviamente abbinato alla matita non è questa ma è questa che anche queste sono state no è questa delle scoperte bellissime perché le matite labbra che io ho sempre utilizzato erano abbastanza asciutte non scorrevano anche quelle di Essence che comunque mi piacciono quelle stilo non hanno le performance di queste qua della Kiko le new creamy che sono veramente stupende di questi consigli devo ringraziare la mia amica Anto e anche come avevo già detto Elisabetta perché più volte lei ne ha parlato benissimo e con l'Anto mi sono confrontata giornalmente perché noi abbiamo appunto questo gruppo delle bloggers di una volta le bloggers vintage io la Anto e la Simona del blog pensieri pasticci che stiamo cercando di convincere ad arrivare ad approdare su youtube perché sarebbe veramente una ricchezza per tutti noi con le sue ricette con le sue fotografie lei è veramente brava ma è un po' timida e quindi non vuole farsi vedere ma stiamo cercando di convincerla abbinato appunto questo rossetto con questa matita che è meravigliosa ed è la numero aspettate 02 e anche queste sono sempre in collezione permanente mi piacciono davvero tantissimo sono morbide delineano bene e comunque il rossetto messo con la matita è comunque tutta un'altra cosa e poi ho questo rossetto di Catrice della collezione le cattive Maleficent che avevo comprato anche qui quando era uscita la collezione sempre per colpa di chi non lo dico più perché sennò veramente mi denuncia questo color carne che io amo tantissimo sulle mie labbra e anche questo è molto scorrevole molto morbido e l'ho abbinato alla matita colore 03 che è questo color marroncino che secondo me è proprio l'ideale con questo rossetto mi piacciono davvero tantissimo queste sono un po' diciamo le scoperte e i prodotti make up che ho utilizzato di più nel mese di febbraio poi di cosa volevo parlarvi allora il mese di febbraio è stato un mese molto ricco per me ho festeggiato l'anniversario di matrimonio 26 anni di matrimonio con Paolo ovviamente è stato anche ricco purtroppo di persone che se ne sono andate nella nostra parrocchia persone molto giovani e che mi hanno fatto riflettere molto sul senso della morte ma soprattutto sul senso della vita potrebbe essere brutto dire che pensare alla morte mi fa pensare che la vita va vissuta giorno per giorno nelle bellezze quotidiane questa cosa ve l'avevo già detta ho riflettuto molto sulla mia morte sul fatto che adesso come adesso sono arrivata ad un'età dove quando si va in giro si vedono le carte da morto con le persone che hanno la tua età o anche molto meno e tutto questo mi ha portato a capire che la vita ce la dobbiamo godere ora adesso quotidianamente con le piccole cose con una matita per gli occhi con un rossetto con una palette che ci piace con l'alzarsi alla mattina alle 6 per potersi dedicare quella mezz'oretta dove tu sei assolutamente da sola dove cominci anche a pensare a come organizzare la giornata a cosa fare per cena per pranzo a come sarà distribuito il tuo lavoro in ufficio a come organizzare il pomeriggio la spesa dove andare a fare la spesa dove pensare che video proporre alla tua community alle persone che ti seguono con amicizia con affetto è vero non è un lavoro però se siamo qui è perché ci piace condividere o almeno a me piace condividere quello che mi piace fare gli acquisti la spesa i prodotti che mi piacciono ma anche le mie riflessioni perché io non sono solo la skin care il make up i libri che leggo tutto questo fa parte di me e mi piacerebbe che queste cose si sentissero mentre faccio i video non soltanto il video spesa o il video acquisto non è quello che io ricerco nel nel fare il video su youtube e tutte queste cose davvero tutte queste notizie brutte che ci sono state intorno a me mi hanno fatto pensare che è proprio bello trovarsi dei piccoli piaceri quotidiani che ti fanno star bene che ti fanno iniziare la giornata con quella energia con quella voglia di dire oggi provo questo rossetto tante tante volte ho ricevuto delle critiche da amiche che probabilmente non erano amiche perché mi hanno sempre detto oh ma tu come fai ma tu hai del tempo da buttare il tempo non si butta quando si fa qualcosa che ci piace anche quando si sta a guardare una nuvola in cielo anche quando si sta a contemplare un fiore che ti è nato nel giardino anche quando si sta con le braccia conserte sulla porta e magari si pensa a qualcosa che ti è capitato nella giornata il tempo non è mai buttato il tempo è qualcosa che noi decidiamo di spendere come meglio vogliamo e quindi se ci fa star bene comprarci un rossetto andare fare la speda alla lidl o curare i nostri fiori oppure sederci in poltrona e leggere un articolo di un giornale di una rivista oppure lavorare a maglia lavorare all'uncinetto io in questo mese ho ricominciato a lavorare a maglia lavorare all'uncinetto e tra un po' vedrete quello che sto facendo perché mi piace condividerlo con voi e quindi ecco tutte queste cose mi hanno fatto pensare che lo devo fare non lo devo fare lo voglio fare perché mi fa star bene questa cosa mi fa star bene e se io sto bene sto meglio con i miei colleghi riesco a lavorare meglio sono più serena riesco a stare meglio con la mia famiglia riesco ad affrontare meglio i problemi quotidiani di ogni famiglia e di ogni coppia un'altra cosa che ci ha preoccupato un po' in questo mese di febbraio è stato per esempio la decisione di Pietro vi avevo detto che c'era stato un momento in cui ero un po' così per un problema coi figli niente di particolare sia chiaro però Pietro ha deciso di lasciare l'università lui ha iniziato a frequentare l'università della montagna idolo e poi per vari problemi che adesso non vi sto a raccontare ha deciso di lasciare quando ce lo ha comunicato ovviamente per telefono perché lui è su vive su ha deciso di iniziare una sua attività di azienda agricola perché è quello che vuole fare lui vuole fare il contadino e lo vuole fare nella maniera più naturale possibile vivere proprio in mezzo alla natura distaccato dal mondo distaccato dai social e alcune volte non sa neanche che giorno è della settimana quando ce lo ha comunicato ovviamente la nostra reazione di genitori è stata quella di cercare di fargli cambiare idea come penso sia naturale per tutti i genitori che non aspirino che il figlio diventi un genio che si lauri che abbia come dice Pietro quel pezzo di carta ma perché io penso che avere comunque la possibilità di spaziare di studiare per poter fare quello che più ti piace sia una possibilità che non va sprecata quando però è sceso e ci siamo così seduti al tavolo a chiacchierare non a discutere lo abbiamo fatto in maniera secondo noi intelligente perché abbiamo capito che come genitori dovevamo fare un passo indietro ci siamo ritrovati davanti non il ragazzino di 18-19 anni che era andato all'università ma abbiamo trovato davanti a noi un uomo che aveva delle idee ben precise e ben chiare di quello che era il suo futuro e di come vuole vivere la sua vita e davanti ha comunque la voglia di costruire un mondo nuovo il coraggio di affrontare determinate scelte insomma ci ha fatto ci ha fatto essere orgogliosi siamo contenti per lui lo stiamo appoggiando in tutto e per tutto sicuramente avrà le sue fatiche le prime a livello economico perché ovviamente noi non è che lo possiamo aiutare più di tanto però ci ha fatto capire che forse forse i ragazzi d'oggi hanno quel coraggio in più forse perché sono appoggiati anche da delle famiglie differenti da come erano la mia o quella di Paolo se io fosse arrivata a casa da mia amma a dire una cosa del genere so già la risposta era una società diversa era un mondo diverso noi eravamo diversi io davvero ho capito che con i figli alcune volte bisogna fermarsi la mia reazione è stata quella di dire ecco guarda che poi dopo ti pentirai ecco guarda che poi dopo non voglio dirti te l'avevo detto sono stata zitta con Pietro ho imparato a fare questa cosa sono stata zitta come Maria ho conservato queste cose nel mio cuore e sono contenta perché ho fatto bene ho fatto bene ho capito che lui sta diventando un uomo tutto d'un pezzo vuole vivere la sua vita con le sue idee il suo modo di costruirsi un mondo migliore un futuro migliore e di questo insomma sono orgogliosa ne siamo veramente orgogliosi ecco tutto questo io ho voluto raccontarvelo perché magari qualcuno sta vivendo una situazione come la nostra non abbattetevi non pensate al peggio non pensate che vostro figlio sia uno scansionale sapatiche non pensate che non abbia voglia di fare non ha voglia di fare quello che avete in mente voi per lui lui ha le idee ben chiare e avanti tutta io dico avanti tutta se ci sono questi progetti bisogna rischiare il tutto per tutto adesso che ha 23 anni non alla mia età sicuramente anche se magari chi lo sa potrei andare d'estate a mungere le mucche la cosa più bella che mi è piaciuta è che una mattina secondo me lui ha delle capre delle pecore gli annellini le galline i conigli adesso vuole comprare il maiale la cosa più bella è stata quella che una mattina mi arriva una fotografia con una brocca piena di latte fresco e lui mi dice mamma la cosa più bella è alzarsi alla mattina andare a mungere le capre e poi bere il latte per colazione ecco questo mi ha fatto riflettere molto perché i valori ci sono il progetto di vita c'è bisogna soltanto avere il tempo e la pazienza di aspettare che il seme germogli ecco non so questa è stata un po' la mia la mia riflessione ora invece vi voglio far vedere un libro di cucina perché voglio parlare anche di questo non ho abbandonato la cucina anche se in alcuni momenti non è così preponderante nella mia vita cucino tutti i giorni ma sono ritornata un po' ad amare il cucinare per fare la ricetta semplice e un libro di cucina che ho sfogliato tantissimo che ho utilizzato in questo mese adesso ve lo vado a prendere perché mi sono dimenticata ovviamente di prepararlo come vi ho detto non sono molto professionale ma ero anche un po' agitata nel fare questo video e vi dico perché mi piace questo libro il libro in questione è questo cake dolci e salati della Tommaso Editore allora la Tommaso Editore è secondo me una delle più belle case editrici italiane che producono libri di cucina io ne ho non so preidirvi quanti ne ho ne ho veramente tanti di libri di cucina questo è stato il primo libro di cucina importante che io mi sono comprata è usato è veramente sporco ci sono le padelle vi faccio vedere di pastella sulle pagine perché è davvero uno dei libri più belli e più utili che io abbia nella mia collezione di libri di cucina sono andata a controllare perché per qualche anno era discontinua l'uscita perché non so a quante ristampe sono arrivati qui ci sono i trucchi e i segreti per fare i plum cake più buoni del mondo e vengono vengono tutti non serve mixer non serve il bimbi non serve il frullatore basta una ciotola gli ingredienti i trucchi per far sì che i plum cake che non diventino gommosi stopposi il diciamo il consiglio principale che ci dà l'autrice che è Ilona Covankova penso si dica così è quello di utilizzare tutti gli ingredienti a temperatura ambiente e io devo dire che seguendo i piccoli consigli che l'autrice dà i plum cake vengono benissimo la mia ricetta preferita che ho fatto a tutti i ricevimenti al quale sono stata invitata e mi hanno chiesto se potevo preparare il pranzo il buffet la mia ricetta del cuore e che ha un successo strepitoso è questo il cake con verdure grigliate e proprio pensando al cake con verdure grigliate mi è venuta in mente un nuovo format da portare sul canale che è quello delle videoricette ma perché vi dico questo perché in questi giorni chiacchierando sempre con Antonella del canale fare e disfare voi dovete sapere che la nostra è un'amicizia di lunga data ci siamo conosciute forse 20 anni fa non vorrei dire ma quasi ci siamo perché ci siamo incontrate non ricordo più bene come e quando ma grazie al punto croce e poi lei aveva un blog di cucina e io avevo un blog di cucina e siamo diventate amiche insieme poi a Simona del blog pensieri e pasticci lei ha messo proprio oggi una ricetta ma anche qualche settimana fa una ricetta con Giulia della pasta alla vodka che è una ricetta vintage molto molto nota e mi è piaciuto tantissimo il suo format perché io ero sempre qua a farmi problemi e dire oddio non ho l'inquadratura giusta la mia cucina sarà così ma come faccio non ho l'attrezzatura e lei veramente ha sfatato tutti questi miei dubbi oggi la ricetta che ha presentato e poi ve la lascio nell'info box perché ne vale veramente la pena mi piace tantissimo e mi piace il format che lei ha scelto ricette veloci inquadrature chiare mi piace tantissimo e vorrei replicarle e anche qui ovviamente io ho chiesto il consenso ma vabbè di video ricette ce ne sono veramente in giro tante spero di riuscire a fare questa cosa perché è un modo anche per riavvicinarmi così all'amore per la cucina che io comunque ho avuto che ho e mi piacerebbe così riscoprirlo in una maniera diversa magari prendendo proprio a tema dei libri di cucina che sono presenti nella mia collezione e che vorrei anche riprendere in mano questo libro io ve lo consiglio sono andata proprio in questo momento a guardare sul sito della Tommaso Editori hanno riproposto la ristampa se non l'avete questo per me è un libro che nella vostra collezione di libri di cucina ma non perché rimanga lì impolverato questo lo utilizzate ci sono tantissime tantissime ricette ma veramente veramente tante dove voi potete cambiare anche un ingrediente e vi esce una ricetta nuova ci sono dei cacché che sono veramente molto originali cacché con zucca e chiodi di garofano cacché con carote e noci e questo l'ho fatto ed è favoloso cacché con mango e vaniglia oppure cacché con carne di maiale salvia cacché del salumiere cacché con fichi e prosciutto cotto insomma ragazzi questo libro io ve lo consiglio bene non voglio dilungarmi più di tanto perché è appunto la puntata 0.0 di questa nuova rubrica che così vorrei che iniziasse se mi chiedete che cos'ho al collo questa è la sciarpa calamita che ho acquistato sul sito della ragazza che ha creato questo così accessorio sempre scoperta grazie a Elisabetta R che ha sempre un occhio di riguardo per le creative che propongono cose molto interessanti queste sono quelle in formato invernale io le ho comprate anche in cotone a Natale mi ho regalate tantissime e la trovo comodissima perché ovviamente con il mal di gola di questi giorni e con la cervicale questa tiene caldo arreda il mio fisico mi piace molto vi lascerò anche in info box il link di questo sito ci sono sempre delle offerte molto molto particolari se ne comprate non ricordo se tre una non la pagate se ne comprate sei due ne avete in regalo insomma io per Natale veramente ho regalato sciarpe calamite a tutti con questo veramente concludo spero che vi possa piacere un video di questo tipo dove io chiacchero chiacchero e chiacchero spero anche di darvi qualche consiglio utile interessante e spero di riuscire a fare al più presto una videoricetta con proprio un cacché magari il cacché di verdure così vi faccio vedere che non c'è nulla di difficile vi ringrazio ringrazio ancora Michela per avermi concesso comunque di prendere spunto dal suo bellissimo video che mi è piaciuto davvero tanto e spero che questo video possa piacere anche a voi fatemelo sapere nei commenti e vi aspetto davvero in un prossimo video grazie ancora di tutto e a presto ciao